il contenitore di biorischio fortifico il muro il nemico ha individuato il contenitore di biorischio c'è gli occhio del male che ti copre rimangono 10 secondi mancano 5 secondi occhio del male ha individuato il contenitore di biorischio nuovo caricatore e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.